Ciao a tutti, sono Luna dal sito vidlab.it e questa è la terza lezione di archeologia e storia dell'arte romana. Al solito apriamo la lezione con qualche cenno storico. Facciamo un attimo un passo indietro rispetto a dove c'eravamo fermati la scorsa lezione per parlare dei problemi sociali del II secolo a.C. Nella seconda metà di questo secolo infatti si acuirono a Roma le tensioni sociali a causa di tutta una serie di problemi di ordine morale, economico e politico ed emersero due fazioni politiche contrapposte, quella degli optimates, cioè la nobiltà conservatrice, e quella dei populares, cioè la fazione più attenta alle fasce basse della società che auspicava riforme economiche e politiche. Di questa fazione fece parte il tribuno della plebe Tiberio Gracco, nipote di Scipione africano, che nel 133 propose una riforma agraria che prevedeva la ridistribuzione delle terre. Infatti le ricchezze ottenute dalle nuove province erano state spartite solo fra gli aristocratici, che si erano divisi una larga parte delle terre creando vasti latifondi e facendo così impoverire i piccoli proprietari, costretti ora a lavorare la terra per loro. Molti piccoli contadini erano stati espulsi dalle campagne e si era creato un proletariato urbano. Anche gli schiavi erano aumentati. Tiberio con questa riforma intendeva quindi superare queste disparità, ma dal momento che essa comportava delle espropriazioni a danno dei ricchi, incontrò una forte opposizione. Così Tiberio venne ucciso durante un tumulto nello stesso anno. Sempre nel 133 a.C. va ricordato che Scipione Emiliano distrusse la Numanzia, sedando una rivolta delle popolazioni della Spagna. Inoltre Attalo III di Pergamo morì e lasciò il suo regno ai romani, che formarono così la provincia d'Asia. Dieci anni dopo la morte di Tiberio, suo fratello Gaio tentò di riprendere e ampliare la riforma agraria, che prevedeva anche riforme politiche e l'estensione della cittadinanza romana alle popolazioni italiche. Infatti questo era un altro problema aperto, che causava tensioni sociali. Anche Gaio Gracco però venne ucciso dai suoi oppositori nel 121. L'altra volta abbiamo parlato della guerra giugurtina contro Giugurta, re della Numidia, e abbiamo visto che la guerra fu risolta nel 105 a.C. dal generale Gaio Mario. Qualche anno dopo lo stesso Mario sconfisse due popolazioni germaniche, che erano emigrate dall'odierna Danimarca. Avevano attraversato la Gallia e stavano per invadere l'Italia, e cioè i Teutoni, che vennero sconfitti nel 102 ad Acque Sextie, che è l'attuale Esam-Provence della Francia meridionale, e i Cimbri, sconfitti nel 101 ai Campi Raudi, presso Vercelli. Tra il 91 e l'88 le popolazioni dell'Italia centro-meridionale si ribellarono perché escluse dalla cittadinanza romana, che richiedevano da tempo. La guerra fu detta sociale, in quanto promossa dai soci, cioè gli alleati di Roma. Nell'88 la guerra si concluse con la vittoria dei Romani guidati dall'aristocratico Lucio Cornelio Silla, ma il Senato concesse la cittadinanza romana a queste popolazioni ribelli. Mitridate VI, re del Ponto, nell'88 attaccò i possedimenti romani in Asia Minore e in Grecia. L'offensiva fu fermata da Silla, che con la forza si era preso il comando delle operazioni, inizialmente offerto a Mario. Con questa sconfitta di Mario, che dovette fuggire in Africa, ha inizio la guerra civile. Mario era esponente della fazione popolare, di origini umili, il cui prestigio crebbe grazie a tutte le vittorie che abbiamo ricordato. Grazie a lui la fazione popolare ripropose in questi anni riforme sociali radicali, suscitando ancora la dura reazione degli avversari aristocratici. Silla, invece, era esponente della fazione aristocratica, e anche lui si affermò con i suoi successi militari. La prima delle guerre civili che sconvolse Roma scoppiò appunto a causa della rivalità fra questi due personaggi. Dopo la fuga di Mario in Africa, i suoi seguaci, approfittando della guerra mitridatica, nell'87 spugnarono a loro volta Roma, guidati da Lucio Cornelio Cinna. Nell'86 Mario morì e seguirono altri scontri, nel corso dei quali, nell'84, Cinna venne ucciso. Tornato in Italia dalla guerra mitridatica, Silla sconfissi i popolari nella battaglia di Porta Collina, nell'82, e instaurò una dittatura, nel corso della quale i suoi avversari vennero colpiti dalle proscrizioni, cioè elenchi di condanne a morte e di confische. Silla inoltre fece delle riforme politiche istituzionali di orientamento conservatore. Fra queste riforme ricordiamo in modo particolare l'aumento del numero dei senatori da 300 a 600, che comportò un ampliamento della Curia, la sede del Senato nel Foro Romano, che analizzeremo più in là. Nel 79 a.C. Silla lasciò la dittatura, si ritirò a vita privata e morì l'anno successivo. Ci fermiamo proprio con Silla perché adesso analizziamo un monumento del Campidoglio che si dà da quest'epoca. E c'è il tabularium, che si trova sull'asilum e domina la Valle del Foro. Questo edificio ospitava l'archivio dello Stato Romano, che oggi si trova al di sotto del Palazzo Senatorio, che gli fu appunto costruito sopra nel Medioevo. Il nome del tabularium deriva dai documenti che vi erano conservati, le tabule pubbliche, ma nessun testo antico ce ne parla. Il nome ci è stato trasmesso da un'iscrizione trascritta nel Medioevo, ora perduta, che ci dice che il console V Lutazio Catulo, per decreto del Senato, diede in appalto e collaudò la sostruzione e l'archivio pubblico. Un'altra iscrizione, quasi identica ma senza la menzione dell'edificio, è stata scoperta nell'Ottocento e ricollocata sul lato del monumento, al quale doveva comunque appartenere. Questo Lutazio Catulo è il partigiano di Silla che fu incaricato della ricostruzione del Campidoglio dopo l'incendio dell'83 a.C. e che si occupò, come abbiamo visto nella prima lezione, anche della ricostruzione del Tempio di Giove Capitolino. Lutazio Catulo fu console nel 78 ed è quindi probabile che i lavori siano iniziati in quell'anno e che terminarono l'anno della sua censura, il 65. Sulla via Prenestina è stato inoltre trovato un epitaffio relativo alla tomba di un architetto che ci dice che questo architetto si chiamava Lutazio Cornelio e che lavorò per Lutazio Catulo. Potrebbe dunque essere il costruttore del tabularium. Queste tre colonne che vedete qui sono ciò che rimane del Tempio di Vespasiano, che si trova già nel foro e di cui parleremo. La sostruzione di cui parla l'iscrizione dovrebbe coincidere con il grande basamento questo qui mentre il tabularium dovrebbe essere l'edificio sovrastante che è quasi del tutto scomparso. Il basamento è costruito in opera quadrata, di pietra gabbina esternamente e internamente di tuffo dell'aniene. L'opera quadrata è quella tecnica edilizia che utilizza i blocchi regolari di forma parallelepipeda e che a partire soprattutto dal IV secolo a.C. vengono disposte alternativamente per testa e per taglio. Le volte della galleria sovrastante sono in ora cementizia. La pianta dell'edificio è trapezoidale con i lati minori che convergono in direzione della piazza del Campidoglio. Qui si aprono sei piccole finestre. In questo disegno però ne manca una perché nascosta sarebbe qui dove c'è l'ombra che nasconde. Queste piccole finestre. E l'ultima finestra è quella di destra, questa qui, è spostata di netto verso sinistra. Il che vuol dire che dovevano rispettare l'esistenza di un edificio preesistente, che è il Tempio della Concordia. Inoltre, all'estremità opposta, uno dei due ingressi che dava accesso all'edificio dalla parte del foro fu sbarrato sotto Domiziano a causa della costruzione del Tempio di Vespasiano. Questo ingresso conduceva in origine al piano sovrastante della galleria ad Arcate, tramite una rampa di scale. Da questa galleria si saliva ancora al piano che oggi è scomparso. Un altro ingresso si apriva a un livello più alto, dietro al portico degli Dei Consenti, il quale ha probabilmente sostituito un edificio precedente che è andato distrutto nell'incendio dell'80 d.C. e che forse costituiva una parte dell'erario civile collegato al vicino Tempio di Saturno. L'ingresso sopraelevato si apriva al piano superiore di questo edificio scomparso.